eccoci qua per la mia recensione di un libro letto e ciao a tutte, tutti in realtà i libri che ho scelto sono due perché è già stato molto difficile così sceglierne uno sceglierne quindi due che secondo me sono bellissimi ho scelto dei libri che ho letto un po' di tempo fa perché come più o meno sapete ultimamente ho letto solo Harry Potter, non dico solo il primo, ho letto anche gli altri di Harry Potter solo che non posso fare la recensione su quello quindi cominciamo il primo che ho scelto si intitola Le lacrime dell'assassino ed è di un'autrice francese che si chiama Anna-Laure Bondu vabbè è inutile che vi dica entrambi sono libri meravigliosi perché ho sempre questa grande stima per alcuni autori e libri insomma alla fine i libri che leggo non è che i libri che leggo sono sempre belli è che se non arrivo alla fine è perché non sono belli e quindi li mollo se arrivo alla fine di solito sono libri belli perché se no li avrei mollati prima un po' funziona così è il mio gusto per la lettura che se non mi piace interrompo quindi Le lacrime dell'assassino è un libro ambientato in Patagonia cioè nel profondo sud del Cile e dell'Argentina la Patagonia credo che sia una regione che sia una parte del Cile e una parte dell'Argentina non vorrei sbagliarmi proprio nell'ultima casa che c'è in questa lingua di terra in fondo al Sud America e in questa casa sperduta alla fine del mondo a un certo punto ci vive una famiglia ci vive una famiglia formata da due genitori e un bambino di nome Pablo non si sa bene di che età e a un certo punto arriva una persona, arriva un uomo che però è un assassino che sta scappando da qualcosa l'assassino uccide i due genitori, i due adulti e non riesce ad uccidere il bambino, non ce la fa e lì comincia la storia non vi sto rovinando niente questo è proprio l'inizio della storia però da qui inizia la storia ed è un po' la storia del loro rapporto di quello che succede negli anni tra questo uomo infatti le lacrime dell'assassino è il titolo del libro tra questo uomo e questo bambino che poi nel frattempo cresce perché nella durata del libro un po' passa del tempo è un libro stupendo a me piace molto l'ambientazione della Patagonia intanto quindi un po' se avete quest'idea non so, di posti alla fine del mondo se vi piace questa idea è un libro che potrebbe piacervi ed è un libro dove scritto, dove si respira anche molta tensione perché questo assassino ha un po' un suo modo di fare, di vivere quindi non è che da un giorno all'altro cambia è un assassino è una persona che pensa in un certo modo che è abituato a liberarsi dei problemi uccidendo e quindi c'è molta tensione nel libro quando succedono delle altre cose in seguito e che quindi rendono molto interessante la lettura perché non si sa cosa succede ed è una bella storia bisogna dire poi nella sua evoluzione è una storia molto bella a un certo punto, vi anticipo solo questo c'è anche un'immagine bellissima di una casa piena di libri e mi ricordo che quando quando lessi quella parte lì che è più o meno a metà del libro ero in biblioteca e mi sono un attimo fermato perché era talmente bella quell'immagine quando l'ho letta che mi ero rimasto stupito perché vi faccio vedere la copertina le lacrime dell'assassino il secondo libro che vi presento si intitola Il gioco di Ender questa è la versione in inglese perché me l'hanno regalato alcuni anni fa e l'ho letto in inglese The Ender's Game appunto la versione italiana è Il gioco di Ender e l'autore è Orson Scott Card io non so se vedrete come a volte succede nel video computer poi tutto alla rovescia oppure no forse sì Ci hanno fatto il film qualche anno fa il film non so forse l'avete visto perché questi sono due libri per ragazzi sono due libri che sono molto adatti per la vostra età anche se io li ho letti da grande e mi sono piaciuti molto quindi se anche li leggerete tra degli anni va bene lo stesso Ci hanno fatto il film un film bello di fantascienza perché è un libro di fantascienza però nel film come succede molto spesso mancavano tantissime cose di quello che c'è nel libro la storia è la storia di un ragazzo che vive che mi sembra che ha sette anni e in questo mondo questo mondo di fantasia diciamo quando tu hai sette anni in alcuni casi credo mi sembra se hai le qualità giuste perché vieni scelto per iniziare la scuola di guerra cioè vieni prelevato è obbligatorio e tu devi andare a fare questa scuola di guerra nello spazio perché per allenarti contro questo grande nemico comune che sono una specie di insetti sono sì mi sembra che siano degli insetti comunque questo mondo questo mondo che è la terra cioè gli esseri umani sono in guerra perenne contro una una specie aliena di insettoni di insetti oddio si è spostato il computer e quindi quando tu c'hai sette anni un po' come a Sparta forse forse è stato ispirato da lì vieni vieni prelevato e devi andare in questa scuola di guerra per allenarti Ender questo ragazzo in particolare è stato monitorato per tutta la sua infanzia aveva un dispositivo addosso che monitorava i suoi pensieri monitorava quello che faceva quello che diceva per cui gli sembra che sia particolarmente dotato che sarà cioè quando lo prelevano i capi della scuola pensano che lui potrebbe essere un elemento cruciale nella guerra e hanno molta fiducia nelle sue doti di combattente nelle sue doti di di guerriero quindi lui va a questa scuola di guerra e il libro parla di tutta questa sua esperienza nella scuola di guerra quindi come sono le esercitazioni come come formano le varie squadre per gli allenamenti come i ragazzi e le squadre sono in competizione tra di loro e anche questo è splendido è scritto molto bene io l'ho letto in inglese bisogna vedere la traduzione però è molto interessante vedere questo mondo immaginato come funziona perché poi il bello della fantascienza in realtà quella fatta bene è che la fantascienza si inventa un mondo si parla di un mondo immaginario però quella sua immaginazione ci parla molto anche del mondo reale cioè è un modo per parlare del mondo reale sto guardando che sono già otto minuti che sono connesso e quindi direi che vi ho detto abbastanza ho fatto una recensione troppo lunga scusatemi l'entro un po' adesso se avete delle domande scrivetemi oppure ne parliamo anche quando ci vediamo se avete delle domande sui libri non ho detto bene i titoli per cui non ve li ricordate ne parliamo non ho detto ne parliamo Grazie.